carissime amiche carissimi amici buongiorno dal vostro caro giocherellone che attiva subito il joy padone eccolo qua e siamo pronti ragazzi per entrare nel metaverso di roblox nel metaverso di roblox il vostro giocherellone sempre con voi il vostro caro il vostro caro vedete siamo in un server qui ucraino russo e o più ucraino mi sembra e vediamo stamattina che c'è mettiamo la visuale in prima persona ecco qua la vampirella la vampirella che sta qui praticamente con la faccia un pochettino scocciata gli hanno gli anni si è schiacciato un brufoletto qua qui sopra porta gli occhiali ma a volte li toglie andiamo avanti per questa parte qua c'è il mitico napoli ragazzi il mitico signore del napoli come potete vedere vestito qui in forma napoletana il griffatino ha un pugnale purtroppo nella mano destra ragazzi e quando vedete persone con un pugnale nella mano destra sinistra o anche in tasca è meglio correre anche se hanno questa faccia qui la faccia da filiberto da filiberto praticamente vedete la ragazza qui lo va lo va a stuzzicare ma questo personaggio ha un pugnale in mano ecco qua la fresellona la fresellona dopo il fresellone arriva la fresellona la mitica ragazza la mitica ragazza qui guardate un pochettino questa ragazza che viene calpestata bullizzata da questa ragazza ovviamente blu praticamente che cerca di fondersi forse per mangiare la sua fresellona la fresellona che ha praticamente dietro dopo il nostro amico il fresellone ve lo ricordate arriva la fresellona ragazzi ma non so chi è meglio chi è peggio il fresellone o la fresellona ma vedete qui che c'è un'altra persona ecco qua le freselle a tutta forza fresella a tutta forza come potete vedere un'altra fresella qui dietro una doppia fresella praticamente perché tu is better the one addirittura due freselle is better the one diceva qualcuno è arrivato lui laureato praticamente con Dustin Hoffman vedete cerca di fondersi con scimmie addirittura qui una grande riunione una grande riunione stamattina vedete addirittura il vampiro laureato è la magamago ragazzi la magamago doppia mazza questa qua due mazze in mano addirittura come potete vedere una scure e un bastone magico chi sei elder ring 3 elder ring 3 guardate qui c'è la piccola la piccola zucca su piccola zucca la piccola zucca pronta pronta come potete vedere a fare gli scherzetti gli scherzetti di halloween ragazzi guardate piccola e zuccosa qui scimmia scimmia che si fondi si sono abbracciati un amore una ragazza con una scura però secondo me è meglio non abbracciarla mai il ragazzo vampirello dice tieniti il regalo ti regalo ti richiede questa chi è che tu che cosa io che mamma mia questa è pazza questa è pazza me che ce ne scappiamo il vampirello il vampirello come potete vedere il vampirello che si trova praticamente qui sopra il vampirello vedete ragazzi il vampirello laureato che va a cercare di andare verso questa ragazza allora ragazzo andare a casa tua vai ragazzo andare a casa tua ecco qua smettere di lavorare andiamo avanti da questa parte qua una ragazza con un'ascia e ora doppia e la ragazza la bambolella praticamente da bambolella qui help help che cosa sta succedendo ladro avere avere ladro avere ecco qua non non utilizza gli articoli questa questa signora questa signora tutta rosata addirittura che tiene in braccio una bambina praticamente è andata a prendere la bambina praticamente dove la sta portando ragazzi andiamo a vedere insieme il roblox cosa succede una cella la cella numero due potremmo dire queste cose qua potremmo addirittura e guardate qua a bambolella andiamo l'abbiamo siamo andati praticamente questa spara questa è pazza questa è pazza addirittura non mi prenderai mai non mi prendi è una mira un po storta questa ragazza vedete ha una mira un po storta vai prendimi per provare a prendere vedi 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 ha voglia spara mamma mia questa è la ragazza la ragazza con la porta accanto e qui dietro vedi o no ragazze sono arrivati gli svuoters e gli svuotere il cavaliere il cavaliere mamma mia gli spara in testa al povero bambino praticamente il bambino mamma mia questo è pazzo questo è il cavaliere il cavaliere qui qui sopra con la mega skin l'avrà pagata a 300 mila dollari addirittura tutti in polizia tutti in polizia aspetta aspetta dammi un passaggio ecco qua sono anche io con te lo sceriffo lo sceriffo del quartiere praticamente non abbia non posso immaginare quanto abbia pagato addirittura entra con la macchina qui dentro come nella mitica pizzeria di arzano a napoli hanno fatto un furto praticamente dei criminali hanno sfondato la vetrina della pizzeria come delle bestie praticamente con la macchina anche se in realtà le bestie queste cose non le fanno peggio delle bestie bestie col cervello un po più evoluto brutte situazioni brutte situazioni apri una pizzeria d'arzano praticamente ti trovi la sera con il vetro sfondato a martellate e con l'autovettura momenti sicuramente tragici momenti molto brutti qui sopra sta succedendo qualcosa la bambiniera la bambiniera quella qua scusa scusa non ho notato non ho notato che avevi un bonus bonus che stai giocando a qualcosa prendendo il buono il grande bonus guardate un pochettino il grande amico qui sopra guardate lui guardate lui con la felpetta con la felpetta incredibile ragazzi momenti veramente tragici momenti epici guardate che i grandi amici ed eccolo lui il cavaliere il cavaliere guarda qua con le manette addirittura è rimasto con le manette in mano il grande cavaliere è rimasto un pochettino al medioevo praticamente al medioevo con queste armature il ciuffetto qua qui sopra la coda di cavallo e lui praticamente si trascina in stile gioco horror pensate un pochettino gioco horror il ragazzo giapponese vedete è scritto tutto in giapponese qui sopra lo ha andato a salvare la signora la signora non è che lo va a salvare praticamente lo mette in cella praticamente molte situazioni molto triste ma il ragazzo tende a scappare tende a scappare ragazzi e qui sopra i grandi fucili praticamente pensate un pochettino i fucili qui sparano dappertutto queste persone non so perché si vanno a uccidere e qui sopra abbiamo le manettielle le manettielle che non sappiamo davvero che cosa possiamo fare con queste piccole manette ma c'è qui la casa di barbie praticamente la casa dei baby baby help baby help la ragazza che dice aiutatemi aiutatemi datemi qualcosa di soldi la bambina benestante andiamo a vedere da quest'altra parte dice la ragazza bandata praticamente con la che cos'è ragazzi la bandana sulla bocca che ti saluta dice mamma mia non prendo non ce n'è covid non ce n'è covid pensate un pochettino invece qui come potete vedere vedete il signore col coltello praticamente il signore col coltello che addirittura si è fatto i capelli rasta perché si è fatto questi capelli rasta non lo sappiamo sappiamo solamente che indossa mi sembra un pantalone del napoli e da buon napoletano posso essere sicuramente contento ma non tanto per questo coltello che tiene in mano addirittura andiamo a vedere intanto che cosa succede su broghenevero vedete ci sono le varie altalene i vari scivoletti c'è veramente di tutto e di più ragazzi in questo mondo in questo mondo fatato eccola qua l'arcangela dopo alessandro arcangeli il nostro caro amico e purtroppo ultimamente sta frequentando poco le live un saluto ragazzi ad alessandro arcangeli se volete bene ad alessandro arcangeli mettete mi piace a questo video e ragazzi mettetelo sempre mi piace al video pensate un pochettino pensate un pochettino c'è anche c'è anche ovviamente alessandro arcangeli ultimamente ha dei piccoli problemi dei piccoli problemi con la famiglia con la famiglia speriamo che si risolvino al più presto possibile perché alessandrino veramente sta facendo sta facendo il diavolo a quattro come diceva diceva praticamente qualcuno sta facendo il diavolo a quattro quindi non sappiamo alessandrino arcangeli di lui e lei è contenta è contenta che alessandrino arcangeli possa ritornare a più presto sul mitico canale del giocatore l'ultimamente mi sta mandando anche delle notizie interessanti il succo del limone fa bene non fa bene vedete appena si parla di alessandro arcangeli le ragazze si abbassano le ragazze chinano la testa davanti al leone di rimini perché alessandro arcangeli maschio non patriarcale maschio che voleva i diritti i diritti delle donne gli stessi diritti per le donne per gli uomini pensate un pochettino alessandro arcangeli alessandro arcangeli ultimamente non sta venendo perché ha dei problemi familiari il leone di rimini chiamato leone di rimini il grande amico del gioco che noi ci conosciamo da più di 11 anni alessandro arcangeli pensate che alessandro arcangeli 14 anni forse ci conosciamo alessandro arcangeli alessandro arcangeli alessandro arcangeli adesso alessandrino alessandrino arcangeli chiamato anche il leone di rimini ha avuto più di mille fidanzate più di mille donne pensate un pochettino sempre desideroso di vedere la donna con gli stessi diritti del dei maschi praticamente quindi femminista un uomo femminista pensate un pochettino dove l'ho trovato un uomo migliore di così bello dentro bello fuori intelligente benestante lavoratore molto responsabile nei confronti della famiglia di origine ma alessandro arcangeli non ha mai trovato una donna una donna praticamente che potesse essere al suo livello e quindi non si è mai sposato non si è mai non si è mai non ha mai fatto figli proprio per questo motivo e forse è meglio così perché forse i migliori sono destinati a essere iper selettivi ma prima o poi troverai alessandro arcangeli una leonessa anche per te la e se non trovi la leonessa non ti accontentare alessandro arcangeli perché chi si accontenta gode così così diceva ligabue nella sua famosa canzone ma in realtà lo hanno detto anche i famosi filosofi antichi del passato pensate un pochettino perché guardate guardate il tappo il tappo ragazzi il tappetto arabo praticamente il tappetto arabo che mi vuole portare mi volevo e mi metto in mezzo alle scatole vedete un pochettino il tappetello arabo che si mette qui dentro in questa forma anche un pochettino cattiva dobbiamo dire la verità e portami via portami via super elia praticamente vediamo il ragazzo dove si mette forse non si è accorto che praticamente sono ci mi sono messo dietro io in in stile delta forse in stile delta forse il nostro caro amico si chiama speck pensato un pochettino nostro grande speck lui è un amante di delta forse alta forse non solo il film con chuck norris il piccolo chuck norris e pia schiaffi pugni e calci tutti quanti ma anche soprattutto pensato un pochettino il grande il grandissimo presente videogioco siamo arrivati a casa di clara di clara di ritorno al futuro ciao clara come stai guardate la grande la grande il grande sorriso di clara fa paura ragazzi clara e guardate un pochettino quando vedete clara da lontano immaginate voi state qui dentro quindi andate a correre praticamente qui dentro stiate state qui nella nella casa nella casa di clara e clara dice non voglio vedere nessuno sono a sociale però noi possiamo vedere clara di qua attenzione questa banna che questa banna e poi dopo non mi piace quando banna perché poi dopo a volte le persone si credono troppo padrone padrone capisco di la loro casa ma no ovviamente dello spazio dinanzi come quella signora che si lamentava vicino a delle persone non mettete non mettete la macchina davanti ai parcheggi pubblici davanti a casa mia e bella signora mi sei fatta il villone hai pagato gli oneri di urbanizzazione e allora giustamente hai dovuto fare anche i parcheggi pubblici altrimenti che fa c'è la c'è il mangia mangia del territorio però la signora diceva ho dovuto pagare non solo i parcheggi pubblici per farmi il villone ma non voglio che nessuno si metta davanti e non funziona così cara signora leggiti le regolamenti urbanistici purtroppo il parcheggio è pubblico e si può mettere qualsiasi persona che stanzia addirittura sul territorio italiano basta che la macchina sia assicurata ricordo questa signora questa signora anche un po ignorante dobbiamo dire la verità ma chi è che non è ignorante ragazzi non tutti possono sapere però non ti impuntare perché pensando che ti sei comprata mezzo territorio dove vivi e ricordo questa signora questa signora che si arrabbiava diceva non mettete non mettete sui parcheggi pubblici non metterlo nei parcheggi pubblici addirittura perché perché mi togli la visuale di casa una cosa è metterlo in mezzo alla strada un'altra cosa è metterlo nel parcheggio pubblico ragazzi brutte persone brutte persone che vi consiglio sempre di evitare in questa breve esistenza che vivete ragazzi avete capito bene in questa breve esistenza che vivete evitate sempre le persone cattive ma in realtà la maggior parte delle persone che incontrerete purtroppo nella vostra vita non voglio distruggervi non voglio distruggervi la favoletta ragazzi e purtroppo le dovete solamente buttare in do gabinet mi dispiace mi dispiace dirlo su questo ma non è una questione di delusione è una questione di esperienza ragazzi di esperienza di vita che fa che traballa sto coso ecco qua il piccolo amico il piccolo amico vedete un pochettino vedete un pochettino qui si paga forse per volare vediamo un pochettino se riesce lui pepe peppino peppino peppi aspetta peppi peppino adesso pensate l'elicottero pensate quanto ha speso peppino per volare con l'elicottero mamma mia ragazza su roblox ti permette di ci viene a giocare gratis e poi però per giù se vuoi giocare se vuoi giocare con l'elicottero se vuoi giocare con l'elicottero devi pagare addirittura peppino cambia guardando un pochettino la grafica dell'elicottero il master sky qua qui sopra con l'elicotterino dei dollarini l'elicotterino militare si diverte così perché peppino praticamente vediamo un pochettino chi salirà su questo elicottero che è arrivata praticamente la ragazza la ragazza con i soldi praticamente vedete un pochettino le grandi avventure del metaverso di roblox arriva arriva lei praticamente con i soldarielli con i soldarielli ed è pronta a volare vai peppino vai vai vediamo se riesce peppino a far alzare questo grande elicottero purtroppo ragazzi che fanno azioni un po illecite la nessuno sopra l'elicottero dello sceriffo lei porta i soldi praticamente e lui la fa volare vedete questi soldi in mano veramente un po triste questa situazione è meglio andare via non amo gli illeciti e me ne posso andare addirittura in ducanestre in ducanestre un po bruttarello come situazione in ducanese nel canestro praticamente di voglia di vincere l'avete visto il film con michael j fox grande michael j fox che ultimamente veramente se la sta passando molto 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 male se la sta passando male perché il grande michael j fox purtroppo a il parkinson una brutta malattia che praticamente va a distruggere tutto il sistema nervoso e tv inizierà praticamente a far traballare mentre parlate mentre giocate addirittura è il mitico le via kerman le via kerman ciao come stai caro levi è arrivato il grande levi vedi col grande col grande cavaliere il poliziotto che è rimasto al 1600 è arrivato al 1400 1300 più che altro è rimasto quando c'erano le armature carissimo levi il caro levi dice che sta bene salutiamo il grande levi dedichiamo questa live allevi levi a kerman praticamente pensate un pochettino a kerman a kerman che tu sai levi a kerman è stato è stato anche un personaggio del famoso film che oltretutto trovi doppiato in italiano su internet gratuitamente che si chiama kung fuori kung fuori cerca su youtube kung fuori italiano ita kung fuori italiano e c'è un personaggio che si chiama hacker man il più grande hacker di tutti i tempi più grande hacker di tutti i tempi che con il power globe della nintendo e il como e che cos'era il commodore vic 20 il commodore 64 ti manda nel futuro hacker man vedete levi hacker man dice lo cercherò questo ragazzo questo signore che si che pensa di essere migliore di me a livello di hacking il mitico hacker man a kerman a kerman avete visto avere l hacker di 24 anni ingegnere informatico esperto in sicurezza che purtroppo è stato purtroppo per lui nel senso che era un criminale entrava all'interno pensate un pochettino entrava all'interno mamma mia ragazzi questa questa parte fa paura guarda un pochettino un compleanno particolare non la guardare in faccia fa paura questa persona guardate in un gatto nero in testa addirittura e che cosa faceva che cosa faceva un po boh macabra questa situazione una festa e questo personaggio veramente pauroso col gatto in testa praticamente che cosa succedeva che cosa è successo e cosa è stato fatto praticamente è stato fatto una brutta cosa praticamente questo signore questo signore ingegnere informatico da poco tempo laureato vero eugenio dell'informatica entrava nei sistemi della pubblica amministrazione per fregarsi i database per fregarsi addirittura le informazioni che poi rivendeva o a gruppi malavitosi o addirittura ai servizi segreti ragazzi quindi gli stessi servizi segreti italiani una situazione molto molto brutta riella non so come vada a finire non so come andrà a finire comunque sono riusciti il grande grattieri il grande grattieri è riuscito presente a prendere a prendere questo hacker che entrava nei database della pubblica amministrazione chissà per farci che cosa agliaia ciao come ti chiamo francesca noto mi chiamo giocherellone 79 se vuoi giocare con me sarai protagonista anche tu francesca noto di questa incredibile live hai capito bene il giocherellone il tuo caro streamer il tuo caro content creator che ti porta sempre i giochi più belli del mondo ti porta gli early access i giochi in accesso anticipato ti porta i giochi da giocare in multiplayer proprio col giocherellone dove tu sei protagonista quindi giochi per i più giovani più giovani preferiscono tantissimo giocare online ma addirittura ti porta le ultime novità stamattina infatti ho portato già io ben 46 anni pensa francesca noto incredibile sono un videogiocatore da quando avevo cinque anni sono 41 anni che conosco il mondo dei videogiochi e ho in parte lavorato anche nel mondo dei videogiochi quando prima di laurearmi in architettura pensa un pochettino quindi facevo ho fatto anche per alcuni tempi il grafico io ho scritto per alcune riviste di videogioco sia online che cartacee quando ovviamente ero molto più giovane per fortuna la passione dei videogiochi non mi è mai diciamo non mi è mai non mi ha mai lasciato e quindi quando ho il tempo libero mi piace ovviamente streamare e farvi vedere videogiochi più belli interessanti per tanti motivi non solo ovviamente legati alla grafica al videogioco ma anche a un contesto sociale francesca noto bello a me mi è successo qualcosa di brutto e strano cosa è successo francesca noto se ce lo vuoi dire lo commenteremo lo commenteremo insieme carissima carissima francesca noto adesso francesca noto ci dirà purtroppo delle cose brutte e strane che sono successe purtroppo francesca noto la vita è imprevedibile che cosa vuol dire questo che non sai mai ti alzi la mattina e non sai come ti vai a coricare francesca noto purtroppo la vita è imprevedibile è imprevedibile da un'altra parte ti direi anche che una cosa forse un po brutta e forse ha poco a che fare con questa live di roblox oppure ha a che fare con questa live di roblox perché adesso mi andrò a buttare giù e purtroppo la morte può arrivare da un momento all'altro caro francesca noto quindi sempre occhi aperti cercate di evitare i pericoli e di evitare le brutte situazioni avete visto il tiktoker 160.000 follower su tiktok era un pizzaiolo faceva vedere la sua vita faceva balletti faceva ridere e scherzare tiktoker di crotone che purtroppo è andato praticamente a rompere a rompere uno specchietto uno specchietto retrovisore pensate un pochettino di una macchina un poliziotto in borghese fuori servizio lo ha visto è intervenuto hanno avuto una colluttazione si sono cioè hanno iniziato a mettersene mani addosso il poliziotto ha cacciato la pistola di ordinanza che aveva e ha ucciso il tiktoker ragazzi una cosa molto brutta allora sicuramente forse il tiktoker avrà sbagliato a scapparsene dopo aver rotto lo specchietto praticamente della macchina ma senza alcuna ombra di dubbio non è non è che vai a uccidere tu poliziotto una persona perché quello ha rotto lo specchietto è successo quello che successe praticamente che fu un narrato dal punto di vista cinematografico anche nel film ragazzi fuori dove king kong che poi rappresentava un ragazzo praticamente per aver rubato uno stereo fu sparato alla testa da un poliziotto allora io capisco sicuramente il crimine sicuramente se io avessi uno stereo in macchina e mi viene rubato lo stereo non sarei felice anzi veramente mi arrabbiere tantissimo con ladro però uccidere un ladro perché ha rubato uno stereo sicuramente stiamo a livelli veramente di assurdità oltretutto esistono due tipologie di persone che vanno a rubare le persone che hanno necessità le persone o meglio tre tipologie le persone che hanno necessità di rubare le persone che purtroppo vogliono arricchirsi in maniera veloce e facile e purtroppo i cleptomani che hanno una vera e propria patologia legate voi bro ciao carissimo mello ragazzi mello il mitico mello lo sapete mello quello là di di oli e benji praticamente quindi che dirvi ragazzi questo che dirvi quindi non sono sicuramente a favore dei ladri posso capire posso capire posso comprendere ma non giustificare più di tanto chi va a rubare la mela chi va a rubare il pacco di riso perché ha dei problemi estremamente economici però su questo esiste la caritas esiste esistono i servizi sociali e tutte queste cose qua per dare il minimo indispensabile sicuramente una persona al fine di sopravvivere e rientrare all'interno della società però sicuramente uccidere una persona perché ha rotto uno specchietto non ci siamo proprio sicuramente un abuso di potere da parte sicuramente del poliziotto infatti verrà processato per omicidio colposo e sicuramente si è distrutto non solo la carriera da poliziotto ma si è distrutto sicuramente tutta la sua vita perché dovrà risarcire sicuramente economicamente anche se poi dopo la vita non torna la famiglia di questo tiktoker veramente inaudito ecco qua questa è la classica situazione in cui il criminale è più quello che dovrebbe tutelarci più troppo piuttosto che quello che purtroppo in questo caso ha fatto un illecito andiamo avanti levi è tornato il grande levi hacker man il più grande hacker del mondo levi hacker man dice buffering il buffering di hacker man ragazzi quindi questo per farvi capire per questo vi sto dicendo cercate sempre nella vita cercate sempre nella vita ragazzi di andare andare praticamente di andare di andare di andare a a evitare ragazzi i problemi inutili problemi inutili ragazzi quando vedete che qualcuno si mette a litigare vedi levi hacker man si mette a piangere si molto triste levi hacker man questa vicenda ti ripeto ti ripeto oltretutto pensa che con lui c'era il figlio il figlio di questo famoso tiktoker 160 mila follower ma in realtà il suo lavoro era fare il pizzaiolo quindi non è che non non andava a lavorare e che cosa è successo il figlio in preda al panico il papà che è stato ucciso aveva mi sembra 43 44 anni ha preso la pistola ha picchiato insieme agli altri parenti praticamente del papà che sono che si trovavano proprio lì ha picchiato questo poliziotto gli ha preso la pistola di ordinanza e purtroppo voleva farsi giustizia privata forse non lo so non lo so che cosa è successo sicuramente situazioni al limite dell'inverosimile per questo ragazzi quando vedete situazioni del genere cercate sempre di togliervi ai discord certo levi hacker man clicca sul box informazioni del canale troverai tutti i social network del giocherone twitch youtube tiktok instagram e discord quindi potrai sul discord partecipare e parlare con tutti i membri della community del giocherone stiamo parlando più di 20.000 iscritti 20.400 e qualcosa mi ricordo ti mando la richiesta no no levi hacker man c'è proprio il server basta che vai sopra non c'è bisogno di richiesta il server è aperto a tutti quindi non ti preoccupare quindi puoi entrare puoi parlare sempre educatamente con tutti noi ti puoi mettere a ridere a scherzare perché questo è un canale non diciamo legato all'amicizia questo fa paura vedete questo personaggio qua ricorda tantissimo il personaggio di el rising un film horror slasher splatter sadomaso praticamente molto particolare molto carino devo dire la vita con una linea una lieve vena satirica dobbiamo dire la verità che ovviamente se avete dai 18 anni a salire vi consiglio assolutissimamente di vedere ha fatto la storia sicuramente del cinema slasher splatter horror sadomaso di tutte di più però sicuramente sicuramente è da vedere per una storia appunto del film horror serie cosiddetti b movie i film di serie b pensate un pochettino quei film che piacciono alle persone un po di serie b che ovviamente il giocherone per una questione curiosità e di cultura cinematografica di certo va a vedere anche lui ma è un film è un film vietato a 18 anni perché ha delle scene molto crude molto crude anche molto violente quindi se siete minorenni giustamente non vedetelo questo per farvi capire che sicuramente sicuramente negli a volte nella cultura se volete farvi comunque una cultura a volte secondo me vale la pena anche vedere cose meno insolte ecco quale via kermann ti ha mandato la richiesta grazie le via kermann guarda casa a casa alla casa la casa della bambina della casa della bambina e siamo qui dentro praticamente vedete nella forma di altalena in questo mitico bro che neve caro le via kermann guarda 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 che c'è guarda quella piccola ciappi piccola ciappi da magiclandia tu sei arrivata sai ma molte volte è vero tu non dici mai piccola ciappi cossa fa le magie piccola ciappi la piccola ciappi ragazzi la poliziotta in fucsia andiamo avanti andiamo avanti la nostra grande amica che ci vuole portare da qualche parte ma in realtà è diventata grigia talmente è diventata grigia con quattro lì dice le vi torno subito devo fare una cosa al fai di che devi fare devi fare la pupù devi fare la puzzettina la puzzettina mamma mia ragazzi è assurdo intanto mi allontano da levi che deve fare la cosa la cosa ovviamente non oso immaginare cosa deve fare il povero levi ragazzi il mitico a kermann quella che è il più importante più importante il mondo ica di amici che ovviamente vanno vanno con praticamente sopra al canale vengono sul canale giocarellone a parlare di informatica chris video mirko papella dottor zombie z1 detto anche devcatto 2001 il carissimo carissimo andrea che a breve andrà addirittura alla microsoft a lavorare alla silicon valley tremano per a kermann domanda come ti chiami sul roblo se mi chiamo giocarellone 79 e capito bene potrai giocare col tuo amico il giocarellone il tuo amico streamer il tuo amico videoplayer il tuo amico il tuo amico pensa un pochettino content creator il content creator lei vi dice ok se tu mi vuoi l'appuntamento vale per le sei ve lo ricordate questa mitica canzone questa è una canzone ovviamente la canzone di valentina una nota cantante napoletana che poi purtroppo morì di un brutto male povera valentina e cantava questa canzone molte volte la vedevo al supermercato pensato un pochettino dove quando vivevo a napoli a fuori grotta quando viveva a napoli a fuori grotta nel quartiere fuori grotta che un quartiere periferico dei di napoli della città di napoli c'era valentina valentina era di fuori grotta e veniva a fare va andava a fare la spesa allo stesso supermercato dove andava il giocarellone molte volte quando entrava nel supermercato le persone dicevano ok pensate un pochettino incredibile valentina ci hanno fatto anche delle varie parodie valentina è stata molto molto richiesta e rinomata nel suo ovviamente settore neomelodico locale mamma mia famosissima valentina purtroppo come tutte le cose come tutte le cose valentina cercate valentina ok cercate valentina ok e capirete capirete ovviamente grandi 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 musiche partenopei che hanno fatto la storia la storia della della città di napoli con gli suoi tanti colori ogni città ogni città ai suoi colori però sicuramente diciamo ci sono alcune città molto molto caratteristiche per quello che sono sicuramente le città meridionali sono maggiormente caratteristiche per quanto mi riguarda senza nulla togliere le persone del nord italia le persone nord italia sono un po diciamo un po pesantucce ecco qua rispetto ai meridionali che sono più ecco qua si chiama giocherone 79 così giocherone 79 con la g maiuscola e ovviamente 79 attaccato capito bene carissimo levi il mitico hacker man il mitico levi a carmen ed eccoci qua praticamente vedi la ragazza ormai è diventata grigia praticamente la bambina dice ma che cosa sta succedendo su questo canale vedi ma eri quello di prima ero quello di prima sono sempre quello di prima francesca noto non sono uscito via dal mio canale sto sempre streamando cara francesca noto certo che sono quello di prima che facevo ci che ci cambiamo il joypad ci cambiamo vedi il joypad vedi il giove che fa mi cambio il joypad con un altro francesca noto intanto guarda un pochettino qui chi è arrivato è arrivato lui l'amico l'amico baffettino il baffettino il baffettino da sparvire penso un pochettino il ragazzo che tiene la canottina del mostro praticamente della morte praticamente la morte il culto dei morti che è sempre stato presente nell'ambito umano forse per la curiosità forse per la curiosità pensate un pochettino per la curiosità legata a che cosa ci sarà dopo la morte ma tendenzialmente non c'è sta niente dopo la morte mortale questi che fanno mamma mia ragazzi e le grandi ballate guarda un pochettino guarda mamma mia ganga stein a sud è arrivato lui guarda un pochettino lei vi dice a che il medici e gioco del meteo mi ha mandato mi mi chiamo f ecco qua ti chiami f dopo di aggiungo francesco noto intanto non mi chiami francesca noto non mi chiami io ma io leggo che ti chiami francesca noto come ti devo chiamare livi akerman godzilla gamer 2600 come mai 2600 come atari 2006 ecco qua guardate intanto ovviamente questa parte qua guardate guardate qualche fa questo ha preso una valigia una è tipo quelle casse musicali avete pensato è presente quelle casse musicali quelle la luminosa e qua chi c'è la ballerina ragazzi guarda la ballerina la ballerina che fa sono i ballerini che mi hanno fatto a montare sta cosa il circolo di brooks quindi si apre il circolo mi chiamo giuli perché mi chiamo giuli a francesca noto però io purtroppo ti posso chiamare solo per nickname non ti posso chiamare giuli perché non cambini che nemmi metti giuli che sarebbe la cosa anche diciamo più idonea secondo me però se vuoi che ti chiamo giuli ti chiamerò giuli però sarebbe meglio mettere giuli forse giuli noto che chiami non lo so sono cose tue ovviamente io non posso verificare e tendenzialmente non in voglio di certo infastidire ragazzi è arrivato halloween è arrivato halloween guardando un pochettino che paura il diavolo dietro ovviamente a questa persona che cammina con la zucca in mano e ti guarda anche una certa faccia fa paura fa paura questa maschera ragazzi chissà da che cosa vi vestirete per halloween per halloween la konami ragazzi pensate un pochettino ha fatto uscire un gioco ha fatto ha fatto uscire un gioco che si ama salenti il 2 remake che vi consiglio se avete più di 18 anni di giocare è arrivata terri hi i'm terry a community builder expert i help streamer grow and engage audience mi interessa in embossing your stream let's connect to discord to restart no non sono interessato grazie terri terri e meggy la mitica terri che dice ti faccio fare gli iscritti ti faccio fare gli iscritti ma il giocatore non ha mai comprato iscritti e non ha bisogno di tecniche psicologiche per avere iscritti carissima terri non ti preoccupare il mio canale è un canale puro e naturale capito non mi serve niente e tendenzialmente non non cerco niente chi apprezza viene qua carissima terri quindi non mi interessano boosting e bosting francesca noto ecco qua no perché se dici francesca noto dice il nick di tik tok di mia mamma mi dispiace però io vedi che cosa c'è scritto quando tu vai praticamente vai qui sopra praticamente c'è scritto proprio questo nickname ti chiamerò giuli francesco che si chiama francesca nota loro un saluto sicuramente a tua mamma un saluto a tua mamma che sicuramente vedrà le live vedrà anche le del giocherellone salutiamo ovviamente la mamma di giuli e ovviamente ovviamente chiameremo giuli che ha chiameremo questo nickname proprio giuli pensa un pochettino andiamo avanti andiamo avanti è bello è bello che sicuramente pensa che ci sta ci sta un anche una mia follower che di che ha il papà che anche lui è amante dei videogiochi anche lui amante dei videogiochi e vede la la e le mie live con la figlia e spesso è spesso praticamente partecipa anche due l live molto molto bello anche giuliana mi puoi chiamare giuliana che bel nome praticamente anche giulia ben diminutivo di giuliana molto bene molto bella penso pochettino ti ricordi quel cartone animato che si chiamava mirco e liscia un giorno di pioggia andrea e giuliano incontrano liscia per caso te la ricordi questa canzone cerca chi smilicia e pensa che il gatto si chiamava giuliano penso un pochettino assurdo e sai come si chiamava giuliano nella versione giapponese perché poi quando ero piccolo pensavo che giuliano si chiamasse solo nella versione italiana il gatto invece giuliano si chiamava giuliano anche nella versione dei giapponesi assurdo assurdo davvero levi akerman mandi l'amicizia ad antonio antonio lognomo antonio lognomo carissimo levi akerman sia antonio mamma mia che sta succedendo qua se me lo puoi mandare se me lo puoi far mandare dall'ognomo manda fammelo mandare dall'ognomo la richiesta di amicizia e giocheremo con l'ognomo ma tu come ti chiami nella realtà io mi chiamo luca come come nome luca il giocherellone pensa un pochettino e guardate un pochettino qui ragazzi intanto che cosa sta succedendo chi è questa persona questa persona che non ha mamma mia ho paura mamma mia che paura è uscita la faccia dall'improvviso questo questo è uno scherzo bruttissimo avete visto ragazzi tu ti avvicini a questo che non aveva la faccia e guarda un pochettino hai visto ti sei messa paura io mi sono messo paura prende di faccia praticamente che ha fatto praticamente questo questo tenevo una fa non aveva la faccia tu ti avvicini e sce la faccia da fuori mamma mia io mi chiamo antonio ti chiami saluto antonio ti ricordi quello la levi akerman quello la quello la levi akerman che veniva che diceva al papà questo ragazzo questo ragazzo che si chiamava penso un pochettino non mi ricordo come si chiamava ma aveva creato diceva diceva vicino al papà diceva saluto antonio ecco qua chiamava il padre per nome e lo trattava a volte anche un po male devo dire la verità ha fatto anche di un sacco di soldi quel ragazzo quel ragazzo un po diciamo formoso praticamente un ragazzo un po formoso insieme al papà che non si voleva far vedere fece più soldi il figlio che il padre ma sei stato bannato in tutta la tua vita allora sono stato bannato quando ero molto più giovane quando ero molto più giovane sono stato bannato perché facevo un pochettino il dispettosello su alcuni forum ma come ti ho detto il giocherello ne praticamente conosce o attenzione questa che fa queste pazze quando stavo su alcuni form quando tenevo 19 anni penso pochettino 19 20 anni quando avuto internet vedevo tante persone che un pochettino con internet se la credevano io mi mettevo a ridere ovviamente e li reputavo un pochettino diciamo dei delle persone un po picchiatelle come si dice non tanto intelligenti quindi a volte lei prendevo un pochettino in giro e quindi a volte quando poi dopo esageravo sicuramente venivo bannato dai forum soprattutto dai forum dei videogiochi pensate un pochettino e per sì anche perché vedevo molti ragazzi molti ragazzi dicevano io secondo me i giochi nintendo sono per adulti non c'entro che c'è super mario e molte volte succedevano le cosiddette console war che ovviamente non succedono più è meglio nintendo è meglio siga meglio sony quindi figurate mamma mia che risate e quindi a me facevano ridere certe cose e quindi sì sono stato anche io bannato ragazzi come va la vita è arrivato maurizio ciocca ragazzi il grande maurizio caro maurizio come stai salutiamo a maurizio ciocca levi hacker man devo andare ciao ciao e mi dico a levi hacker man il più grande hacker del mondo vatti a vedere il film kung fuori in italiano dove c'è hacker man il più grande hacker del mondo francesca francesca non usare la faccia con i cuoricini vieni sospeso su ro io non ho mai usato la faccia con i cuoricini a maurizio ciocca no no ma ma con le maurizio ciocca che ha messo i cuoricini penso un pochettino o questa è pazza queste paga questa è pazza la pazza la pazza di roblox se pazza guarda qua questo ma che fa questa assurdo maurizio ciocca sei bellissimo ti piace questa skin ti piace questa skin guarda che skin questa skin guarda un pochettino pantaloni verdi ma io ma questo è pazza proprio questo aiuto 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 ma che vuole questa mamma mia ragazza questa è violenta ma ma chi appa quest'altro qua andiamo a vedere a lui praticamente vediamo un pochettino lui guarda appena mi avvicino guarda che fa questa questa è pazza dice non mi guarda un barbino e visto che tiene la maglietta di sti vuole se pago e salta pure questa salta mamma mia se paga questo è silent hill 3 praticamente quella viene bannata con la pazza hai capito questo è pazza guarda qua appena ti avvicini al ragazzo vedi ti avvicini al ragazzo per salutarlo guarda lei che fa guarda 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 tu la guardi in faccia guarda mamma mia mamma mia che pazza e pazza queste vai a scuola vai a scuola vai a scuola sale sul furgone assurdo davvero ma rischio c'è il cioccolone il cioccolone ecco qua vuoi un pezzo di cioccolone andiamo avanti ragazzi il 165 che cosa il 165 il pulma 165 lo metto qui dentro e mamma mia ragazzi guardate il conducente un po triste praticamente guardate un pochettino è arrivata candy ragazzi ti ricordi ti ricordi c'era un film carissima candy highlander si chiamava valla a vedere highlander un film che a un certo punto entra una ragazza che si chiama candy e fa l'altro attore fa candy scommetto che sei dolce fa paura che ne faceva paura quella scena candy lo sai quando ogni volta che sento candy candy o candy 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 hanno fatto anche caramella caramella pensa potrino questa 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 canso questa parola questo nome caramella cara candy è stato più volte usato candy di highlander candy di candy candy che è stato un cartone animato che ha avuto ha avuto delle grandissime ripercussioni anche legali praticamente perché le disegnatrici di candy candy erano due e si sono fatte una battaglia legale per anni per i diritti di candy candy e poi c'è candy candy che chi era l'altra che non mi ricordo a caramella caramella che era praticamente un personaggio interpretato da gigia in professioni vacanze pensato pochino questa gigia questa gigia che stava in professioni vacanze con jerry cala e si chiamava caramella perché se buttavi a terra una una carta di caramella le si arrabbava e biava allora la chiamavano caramella francesca domanda giocare a clip it non ci ho mai giocato carissima carissima giuli scusami se leggo ovviamente toni crema ma in genere leggo nickname e dico quello che viene riportato e detto questo detto questo non c'ho ancora giocato ma ci giocherò non ti preoccupare in futuro così giocheremo tutti quanti insieme questo 165 l'autobus 165 quello là che vi porta direttamente mi sembra scampia se lo prendete a napoli o il 166 mi ricordo 165 carmela ha detto detto carmela ho detto carmelina carmelina si carmelina carmelina hai capito caramella caramella si chiamava praticamente questa ragazza cerca cerca professione vacanze e troverai e cerca caramella caramella questa ragazza questa signora che praticamente si arrabbiava ogni gelataio ragazzi gelataio è arrivato praticamente che gelato volete che gelato volete vedete eccolo qua guardate un pochettino chi è arrivato è proprio lui ragazzi il gelataio lui che ha cacciato fuori i soldi praticamente mi dai i soldi per assaggiare i suoi gelati e lei che è scesa col pigiama praticamente è scesa da chi è la nonna questa la nonna col pigiama ragazzi è assurdo la nonna col pigiama non ce l'aspettavamo che la nonna scendesse col pigiama la vecchia nonna l'anziana nonna che scende col pigiama praticamente gli è stato regalato due tre natali fa sono momenti un po tristi questo qua della nonna in pigiama la nonna in pigiama fa paura ragazzi e la nonna in pigiama fa paura dobbiamo dire la verità andiamo a prendere un bel gelato un bel gelato un pochettino il gelataio al volo praticamente mamma mia al volo entro dalla dal parabrezza praticamente dal parabrezza la gelataia questa è la famosa gelataia esperta di gelati ragazzi esperta di coni pensate un pochettino guardate qui dentro che c'è cioccolato vaniglia gelato del compleanno bubble gamma gusto di gomma da masticare alle patatine alla menta mind chip è assurdo davvero il ghiaccio addirittura ghiaccio e ghiaccio e allora guarda un pochettino che faccio non lo dice ha messo ansi preso alle chiavi si è presa e la nonna in bicicletta e la nonna in bicicletta dice la mitica julia dress top imprese c'è mai giocato non ancora che di mitica julia sai perché perché purtroppo in roblox mi chiedono sempre di portare brocaneve guarda lei è molto triste per questo in brocano questa è la pazza questa è la pazza questa è la pazza ti ricordi questa questa è la pazza quella che c'è la maglietta di stitch ti ricordi hai mai visto il film lille stitch molto molto bello anche se un po triste ovviamente lui è solo un alieno solo praticamente un più un povero lino che è abituato a distruggere sempre tutto ma in realtà vuole anche molto affetto il piccolo stitch praticamente che poi trova la famiglia in una famiglia disastrata ragazzi molto molto triste andiamo a vedere la buona ciambella una ciambella col buco la gelataia la gelataia praticamente in realtà è anche una ciambellaia è assurdo davvero vedi un pochettino che cosa fa dietro al bancone fa delle torte veramente incredibili la torta di compleanno guarda un pochettino addirittura col mattarello se fa il cattivo ti dà il mattarello in testa meglio non darlo di spacca la testa poi finisci nei necrologi del giocherellone meglio non finire nel necrologio del giocherellone andiamoci in avanti qua oltre oltre al fatto ovviamente guardate quando fa progettate una scala ragazzi non fate come questi neo architetti che fate la scala così va sempre messo da questa parte qua almeno un corrimano e qui una forma di protezione la scala deve essere sempre chiusa perché altrimenti io posso andare qui e boom cado e mi spezzo una gamba o la testa pensate un pochettino e se sono anziano anche il femore che è l'osso più grande del corpo umano sapete che il femore è l'osso più grande del corpo umano fortemente soggetto a fratture quindi mi raccomando se vedete una casa in questa maniera non salite nella scala queste scale sono molto pericolose non hanno un corrimano praticamente sulla sinistra non hanno una chiusura di protezione qua scale progettate da architetti geometri ingegneri che dovrebbero andare a zappare il terreno ma anche per zappare il terreno ci vuole ragazzi la cultura voi lo sapete questo quindi ogni professione una propria cultura quindi mi raccomando studiate sempre se fate gli architetti non progettate le cosiddette scale in questa maniera che non sono le scale aperte alla napoletana ovviamente le scale aperte alla napoletana sono un altro tipo di struttura molto molto bella dei palazzi signorili della dell'ottocento settecento forse non mi ricordo di preciso che volete fare la il tempo il tempo passa il giocatore una volta le dimentica le cose certo edifici molto molto belli andiamo a vedere andiamo a vedere ragazzi quelle sono le scale che vi ho fatto vedere su uno scale ovviamente molto pericolose lì c'è una festa ragazzi vedete un pochettino c'è questa festa e vediamo vediamo alla festa che cosa ci sarà qui la mitica caserma della polizia come si dice tanti poliziotti tanti criminali e tanti criminali perché c'è poco lavoro dice la mitica giuli praticamente sai che c'è uno youtuber che ha 67 milioni di like solo per i video che cade sulle scale su broken heaven possono capitare sono i cosiddetti video virali sono i cosiddetti video virali pensate un pochettino carissima carissima giuli che chissà per quale motivo a volte fanno tantissime visualizzazioni il ferro il ferro si batte finché caldo quella persona ha fatto un video forse quando broken heaven ovviamente quando broken heaven che ti posso dire ha avuto e roblox ha avuto un grande un grande hype e lo cercavano tutti è diventato virale e quel video forse ha fatto fare i soldi se aveva la monetizzazione a quella persona è incredibile pensa che 67 milioni di visualizzazioni sono ben 67 mila euro non male ecco qua anastasia francesco ciao carissima anastasia francesco ecco qua come sta tuo papà salutami il signor francesco la mitica giudice a me mi fa ridere un botto ma questo quello è lo scopo della vita credo che sia la felicità carissima giuli lo scopo della vita secondo me deve essere la felicità ognuno poi dopo trova la felicità in quello che gli piace di più fare quindi cercate di capire ragazzi soprattutto i più giovani cosa vi piace fare nella vita non distruggetevi e perseguite la vostra felicità perché purtroppo mi dispiace dirlo la vita è breve ragazzi e ci sono pochi anni per realizzare i vostri sogni quindi siate sempre determinati e cercate sempre di fare una vita felice non perdete ma il sorriso ragazzi per delle cose brutte che possono accadere ma soprattutto per le persone cattive e invidiose ve lo dico io che ho lavorato purtroppo a volte con delle persone molto malvagie e non perdete mai la vostro sorriso non perdete mai la vostra spensieratezza non abbattetevi mai soprattutto per colpa degli invidiosi e di quelle persone che ovviamente dicono le brutte cose che sono accadute a me devono accadere anche a te ricordatevelo sempre mai perdere il sorriso per i cattivi e gli invidiosi andiamo avanti la mitica giuria dice hai detto elena ho detto anastasia e francesco anastasia e francesco infatti come puoi vedere sono dei nostri incredibili follower i membri della community del giocherellone anastasia e la figlia e francesco il papà che anche loro praticamente sono amanti dei videogiochi è arrivata qui la strega la strega della zucca ragazzi eccolo qua la mitica strega della zucca ma come fai a fare le lave come faccio a fare le lave praticamente basta che fai premi sul pulsante più di youtube praticamente del tuo account di youtube ecco anastasia ragazzi guardate come si è vestita anastasia per per halloween fa quasi paura dobbiamo dire da pipistrelli a forma di zucca con la stellina qui sopra quindi as dal tuo account di youtube devi mi sembra avere 50 iscritti poi premi il tasto più e file live ovviamente scrivi il nome della tua live praticamente e metti un'immagine di copertina e farai la live amo roblox adriana brunetta ti piace roblox roblox è un ottimo che c'è il gioco e c'è il gioco che non è 79 carissima anastasia buongiorno a te buongiorno anche a tuo papà detto questo detto questo roblox è un bellissimo metaverso che cos'è un metaverso praticamente come se fosse una mega chat virtuale pensato un pochettino graficizzata dove possiamo dove possiamo dove possiamo addirittura pensate un pochettino andare a fare delle incredibili avventure in avventure tutti quanti praticamente insieme ovviamente come tutte le chat ragazzi soprattutto perché roblox come broghe neve ne ha aperto a ogni tipo di età non date mai i vostri dati personali se qualcuno vi dovesse chiedere vi faccio un pochettino la scuola mi permetto di farvi la scuola se qualcuno vi dovesse chiedere il vostro numero di telefono le vostre immagini dove stai dove vai a scuola dove vai a studiare dove vivi eccetera non date assolutamente mai questi contatti e soprattutto bloccate queste persone perché una persona potrebbe dire sono un ragazzo di 15 anni ma in realtà è un adulto di 60 anni quindi mi raccomando non date mai i vostri informazioni personali e mi raccomando io le faccio tiktok le lave fai bene ti piace fare le live su tiktok tiktok è un ottimo social network però l'unico problema che non ha una monetizzazione se non con le donazioni e non credo proprio che le persone ci sono anche gli abbonamenti tiktok è più commerciale nel senso che tu devi essere legato a un'attività commerciale per guadagnare qualcosa su tiktok quindi secondo me i migliori social network che ci sono su internet sono sicuramente youtube che il mio preferito sicuramente youtube e poi ovviamente il mitico il mitico twitch senza alcuna ombra di dubbio giul dice direttamente direttamente fare la ve lo so perché tu premi più e fai live e fai queste live praticamente dove stai tu però in realtà io credo che io credo che in realtà il miglior social network che ci sia sia sicuramente youtube per i videogiochi forse sicuramente meglio twitch perché ha una catalogazione diciamo migliore dei videogiochi youtube però è il miglior contenitore indovina quanti anni ho non lo so farò cara giuli spero che tu abbia più di 13 anni perché questa live è indirizzata a persone che abbiano più di 13 anni ovvero non ai bambini quindi se siete dei bambini dovete sicuramente vedere questa live con un vostro tutore un fratello una mamma una nonna che abbia dai 18 anni a salire mi raccomando altrimenti purtroppo dovete uscire perché questi sono video non catalogati per bambini questo mi fa mettere ovviamente i social network mi fanno mettere queste cose io ve lo dico sempre qua non perché si parli di argomenti per adulti assolutissimamente no ma perché ovviamente sono ovviamente così catalogizzati ma non ho 13 anni allora devi vedere pensa alla live con un genitore o con un tutore una nonna o un nonno o un fratello maggiorenne una sorella maggiorenne quindi mi raccomando perché questa è la classificazione che youtube mi dice di mettere praticamente video per bambini o video non per bambini ovviamente detto questo ragazzi che dirvi abbiamo giocato a roblox ovviamente col vostro grande amico il giocherellone sarete protagonisti poi dopo anche delle clip praticamente di roblox come la cara nastasia di cui ovviamente salutiamo il papà anche lui grande amante dei videogiochi e sarete protagonisti delle clip che troverete nella sezione short ovviamente dei miei social network su tutti i social network del canale del giocherellone ma ho 25 anni non 13 anni a 25 anni a complimenti allora allora pensa un pochettino che bello e mi fa piacere che ti piaccia roblox roblox è un bel metaverso è fatto soprattutto per far role playing è fatto anche per parlare che chiacchierare a voi piace tanto e io ve lo porto sempre roblox perché vi piace io questo canale infatti l'ho fatto proprio per divulgare il videogioco e tendenzialmente per far piacere ai miei iscritti non è un canale tendenzialmente per me nel senso che a me piace diciamo che venga divulgato il videogioco e vi possa parlare ovviamente di tutto quello che mi passa per la testa ovviamente non di argomenti molto particolari o sicuramente offensivi durante queste live quindi che dirvi ragazzi dedico questa live a tutti coloro che amano roblox poi troverete i video brevi cosiddetti short sui miei tre social network youtube tik tok e ovviamente ovviamente che vi posso dire il mitico il mitico twitch se volete ovviamente vedere gli altri social network del giocatore non è cliccate sul box informazioni e troverete tutti i social network del giocatore non è pensate un pochettino se volete comprare i libri che ho pubblicato su amazon cliccate nella descrizione di ogni video e troverete i libri che ho pubblicato su amazon che potete leggere gratuitamente anche se avete amazon candle unlimited se volete comprare i gadget del giocherellone magliette cappellini canottiere pantaloncini e scarpettine potete cliccare sul negozio e troverete tutti i gadget del giocherellone per il resto se volete supportare il canale e avere tutti i benefici degli abbonati potete abbonarvi e donare io vi ringrazio veramente tantissimo per l'attenzione saluto veramente tutti e poi ovviamente ci vediamo tra 5 e 10 minuti con un'altra incredibile live per il resto altre live verranno fatte pensate un pochettino nel pomeriggio perché poi dopo sono un attimo impegnato col lavoro levi hackerman dice english o spanish donut o moe io dico english ma tu che cosa dirai caro levi me lo scriverai nei commenti se se tu sei una persona da english o se sei una persona da spanish saluto tutti ancora e ci vediamo più tardi ciao dal giocherellone ciao